franco leo grande a gara di casa si sono sono contentissimo ho sfrutturato secondo me una buona prestazione nella prima manche e aveva un avversario tostissimo con un mezzo molto efficiente molto aggiornatissimo rispetto alla mia che una macchina un po datata però ancora efficiente però sicuramente tante tante migliorie il mio avversario ce l'ha io no e gli ho dato un distacco abbastanza considerevole poi se vado a analizzare la prestazione vedo che nel primo tratto lui è veloce quanto me dove non c'è molta guida nel secondo gli do un secondo versetto secondo e 8 quindi questo mi fa capire che mi ha dato bene